KANGO ESTRADA No 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 non evochiamo demoni che dopo Bentro nazionale dal dal Allo diciamo qui per la vicino della casa Il riso del male Il nuovo film di Lycroni, la trama qual è? Il Necronomicum scatena Il suo terrore su un edificio In cima alla città Nella periferia di Los Angeles E Beth si concentrerà nel disperato Tentativo di salvarla sua famiglia mentre vaga nel palazzo infestato da morti e allora tanto scusate per il ritardo questo film l'ho visto giovedì ovvero data di uscita il 20 aprile però ho avuto da fare ho purtroppo anche una vita e quindi eccoci qua allora dopo Hall l'abisso Lee Cronin torna alla regia e qua trovate la recessione di Hall Lee Cronin torna alla regia con un film molto importante quinto film di una saga il cui capostipite primo film è il classico del genere è Evil Dead 1 la casa 1 come volete del 1981 è un classico del genere e quindi aveva un compito importante e mostra a tutti come per fare un bel film e questo lo dimostra soprattutto il genere ma non solo dopo vi faccio un esempio che capirete tutti mostra a tutti come per fare un bel film non serve avere una buona trama ma serve sfruttarla bene e questa è una cosa che questo non è riuscito a fare quello lì della suora che mi dimentico sempre il titolo della suora che fa io se ci si mi non è riuscito a fare tantissimi filmori non so volete cioè qualsiasi filmori non so Blackphone Obbligo Verità Slenderman hanno magari non hanno una buona trama ma non sfruttano neanche bene quello che hanno il poco che hanno non lo sfruttano bene questo film non ha una trama la madonna la trama dell'anno non ha la trama della vita ma anche perché perché è il quinto film di una saga non è che è il quinto film di una saga dove ci sono sbudellamenti squartamenti sangue a fiumi letteralmente o pioggia di sangue letteralmente mi aspetto la trama l'inception la trama mega galattica super costruita no però sfrutta al meglio quello che ha c'è una trama semplice allora costruirci qualcosa su questa trama e continuo a sottolineare questa cosa ve lo ripeto questa cosa la sottolineerò per tutto il film il fatto e per tutta la recensione il fatto che non bisogna avere una buona trama ma bisogna sfruttarla bene anche perché il film dura 1 ora e 36 non è che dura 7 ore non è nymphomaniac non è avatar 2 o il signor dei anelli ritornano del re avatar 2 non ha una trama che costruzione non è una trama pazzesca però sfrutta bene quello che ha questo uguale ovviamente parliamo dell'oro perché perché Nick Cronin intavola una trama interessante sul discorso della famiglia che famiglia che c'è e famiglia che deve arrivare interessante perché comunque si appunto appunto si sa cioè tu appena si scrive appena vedi il trailer che è uscito il nuovo trailer della casa tu sai che quel film lì non va a finire bene perché i film della casa si sa che non vanno mai a finire bene questo e questo non è uno spoiler per questo film qua ve lo dico già questo film non va a finire bene ma non è uno spoiler è la saga della casa che è fatta così quindi trama sfruttata bene con il discorso della famiglia ma mai staccandosi dal dal filone dallo stile della casa quindi squartamenti sbudellamenti e via discorrendo ma cosa che valorizza tutto il film ridà ridà vita alla saga che comunque dopo il quinto capitolo può essere che la trama non sia la saga che non sia così frizzi e lazzi ridà vita la saga con diverse aggiunte diverse aggiunte come una su tutte che non è uno spoiler perché è letteralmente la prima inquadratura del trailer l'ambientazione ambientazione non è più bosco non è più casa in mezzo al bosco come erano tre film perché al fine l'armata delle tenebre è un castello ma comunque è vicino a un bosco comunque non è più casa nel bosco ma è palazzo in mezzo in una periferia di los angeles quindi esattamente l'opposto cambiano anche e anche a livello di espedienti narrativi o luoghi per esempio mi viene in mente senza fare particolari spoiler lo spioncino l'espediente narrativo sia a livello di regia che a livello di trama dello spioncino è molto interessante molto funzionale qua torniamo indietro che hai una una trama tra virgolette povera nel senso banale cioè io ho fatto un 936 così ma perché sapevo quello che andavo a vedere ma non annoiato cioè ho fatto un 936 così a godermi il film perché dopo vedrete il voto guardato ve lo dico è sufficiente e tanto il discorso dello spioncino è molto interessante perché viene sfruttato bene non per tutto il film in maniera centellinata quindi anche questi spioncini narrativi qua bene il cast soprattutto alisa shaperland che è mattatrice assoluta del film con le mimiche facciali veramente inquietanti capisco che l'hanno truccata gli hanno messo le linte a contatto ma aveva delle espressioni veramente molto inquietanti il film è esattamente quello che volevo esattamente quello che doveva essere ovvero una trama sì di base ma squartamenti sbudellamenti sangue guai guai una scena di censure cioè se mi devi fare un coltello che entra in un braccio mi fai vedere il coltello che entra in un braccio è guai se mi fai delle censure se no arriva Bruce Campbell e Timena con la motosega e quindi queste cose lo sangue e profusioni unita alla storia appunto di Ellie e Beth le due sorelle non annoiano non stufano perché comunque può essere che squartamenti non interessano ma invece non annoiano facendoti capire che questa saga ha ancora tanto da dire perché capisco che film horror su case nel bosco ne abbiamo visti giusto due e tre ma invece se mi aggiungi queste cose qua e adesso la trama la saga comincia avere un filo narrativo distaccato dai primi tre con Bruce Campbell e soprattutto attenzione io continuo a dire Bruce Campbell più Ash versus Evil Dead perché c'è anche la stagione la serie tv sì no la stagione la serie tv scusate comincia a avere un filo narrativo interessante e questa e in più con il sesto capitolo già annunciato che si pronuncia interessante perché come sappiamo i libri in Necronomicon sono tre quello della casa uno due tre quello della casa quattro quello del 2013 e questo qua quello con i dentoni quindi adesso abbiamo i libri sono tre abbiamo visto tutti e tre libri qui adesso si possono radunare tutti e tre libri per creare qualcosa di pazzesco allora due tre spedienti narrativi non mi hanno fatto impazzire più di tanto li ho capiti ai fini della trama soprattutto in particolare dopo vi dico esattamente cosa questo comunque questo proprio direi di no e secondo me ci volevano più collegamenti con gli altri film ci sono c'è anche un easter egg secondo me nascosto che dopo vi dico però più collegamenti ce ne sono pochi capisco perché comunque appunto è molto staccato gli altri film perché siamo in un palazzo a los angeles quindi siamo comunque staccati ma c'è comunque una mancanza evidente di collegamenti altri film nonostante ci siano soprattutto negli ultimi dieci minuti una cosa che non mi ha fatto tanto impazzire negli ultimi dieci minuti ve la devo per forza dire nella parte con spoiler e allora andiamoci su sta parte con spoiler 3 2 1 come si era visto anche nel libro c'era la creazione di questo mostro gigante mega super che sembrava un po' il re dei ratti della sto fase allora non credo che sia per i budget perché comunque questo film aveva un buon budget cioè allora il mostro non me lo fai vedere non me lo fai vedere cioè il mostro tra l'altro non lo vedi mai nella sua interessa vedi sempre frontale con la faccia di Ellie e gli altri due figli Danny e Bridget quindi non lo vedo mai il tutto e questa cosa mi ha fatto impazzire mi sarebbe piaciuto soprattutto mi sarebbe piaciuto un finale un po' più intenso con un po' più di roba capisco che era difficile perché comunque erano una normalissima ragazza donna con una motosega e un fucile a mezzo servizio e una bambina di otto anni contro un mostro gigante con mille braccia capisco che lo sconto era un po' impari ma mi sarebbe piaciuto qualcosina di più magari spostare una parte del combattimento dentro il buco che si era creato dove è stato trovato il necronomico né magari non so far cadere il mostro lì dentro o buttarci dentro poi il mostro usciva in una scena figa mi aspettavo una roba del genere però vabbè poi mi è piaciuto tanto il collegamento netto con la pioggia di sangue letteralmente che c'è nel 2013 che pioveva sangue che è stata anche qua ricreata con la morte del mostro che ha nel trituratore lì quello che era con il bocchettone che spruzzava sangue e ha ricreato un po' la pioggia di sangue ma soprattutto l'ha ricreata l'inquadratura dentro una macchina sul vetro con il rumore del sangue sul vetro che ricreava un po' la pioggia questa cosa mi è piaciuta veramente tanto poi allora col 2013 ha anche io parlo di quello del 2013 perché è proprio il film a cui si prende più spunto ma per il semplice discorso della della grafica il rosso con il nero con le radici con le raise ecco questa cosa qua è quello che ci va più cioè alla fine questo film questo film del 2023 con quello dell'81 c'ha quasi niente in comune ha qualcosa di più in comune con quello del 2013 nel quello del 2013 era e questo è un difetto di questo film qua però è bilanciato perché quello del 2013 aveva meno storia cioè alla fine la storia non era particolare vabbè si va in questa casa per far disintossicare mia e dopo vabbè a un certo punto delirio totale e basta delirio totale e basta cioè la trama finiva cioè dopo mezz'ora la trama finiva e si recuperava un po' sul finale ma pochissimo però c'era molta più violenza c'erano scene la scena del taglierino con la lingua la scena dell'amputazione del braccio con il tagliacarne la scena quella della della jeep sul braccio in mia che si stacca al braccio completamente la scena che continuerò a ogni volta che ci penso mi fa senso e questa scusate quando mia è nascosta nella casupola e c'è il coltello che va avanti e il coltello va qua sulla carne avanti 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 poi va indietro avvi di tutta la carne ah 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 che male quella cosa lì ecco quindi va meno storia più violenza questo film è esattamente l'opposto c'è più storie c'è una storia più interessante c'è una storia che tra Ellie Beth Cassie la bambina piccola una storia più più coinvolgente diciamo non estremamente più coinvolgente meno violenza non zero violenza meno violenza c'è in questo film qua se vedevo cioè quello subito proprio il taglierino ve l'ho detto era subito così veloci e e ve l'ho detto alcune poi anche lo spavacchiodi il piede di porco con la mano che si apre cioè questo io avevo l'avevo detto anche nella teoria che sono che trovate qua in alto la grattugia la scena della grattugia è un po' l'emblema di tutto questo discorso perché è la scena che ho fatto più fatica a guardare perché la grattugia il grattaverdure lì cazzo era sì quello che usiva le carote sulla carne e le attivi indietro mi fa venire male sull'essore pensare c'è la scena che ho fatto più fatica a vedere ma mi sembra è piaciuto letteralmente non 4 minuti in più lei ha fatto così la bambina la ragazza fatto così ok altre due volte niente di più perché così mi fai un colpo solo mi dai un assaggino ma non mi fai vedere tutto è un film del genere assolutamente poi per carità per esempio il coltello le braccio e dopo fa così anche quello lì non ho mai provato ma non credo sia piacevole ecco forse il quando Bridget mangia il bicchiere lì forse la scena un po' più però vedete non c'è la scena ve lo dico la scena del taglierino con la lingua io l'ho visto solo in quel film lì non l'ho visto in altri film o anche la jeep col braccio cioè io l'ho visto solo in quel film lì queste cose sì violente per carità di dio cioè sì violente però qualcosina mi sarebbe piaciuto qualche violenza in più però più storia poi la cosa che mi è piaciuta in assoluto di più questa è la cosa che mi è piaciuta di più perché la storia ok è la storia di come si chiama di Ellie di Beth la famiglia e soprattutto il figlio che lei che lei è incinta Beth è incinta deve nascere il figlio che è un po' il fulcro di tutto il film è una cosa che viene ripresa spesso da quello che diceva la trama ma il film parte con un'altra storia quella storia di Jessica che che eravamo lì appunto una casa sul lago è lì è lì c'è il colpo è lì è il colpo da maestro lì il cronin ha calato l'asso di briscola perché ha detto si sa già che la casa finisce male quindi infatti c'era questa storia e poi ho detto ok vabbè e dopo la storia che vedi Lily Sullivan ovvero quella attrice che interpreta Beth è scritta un giorno prima e tu dici ah ok quindi questa storia è completamente staccata finirà a un certo punto ma io so già che comunque finirà male perché nei primi 5-10 minuti mi hai fatto vedere quell'altra storia che è dopo che finisce male quindi so già che finisce male e questa è una gran giocata è una grandissima giocata ma soprattutto l'iconica è da importanza al titolo in una scena maestosa questa che ultimamente a me non piacciono i film dove c'è il schermo nero il titolo in bianco mi piace quando viene data importanza al titolo qua minchia se vengono date importanza al titolo il satana che viene fuori dal lago col titolo che viene in su a caratteri cubitali che sicuramente in lingua originale viene meglio perché è Evil Dead Rise qui è la casa di svegli del male infatti non era quasi neanche dentro lo schermo Evil Dead Rise sicuramente viene fuori molto meglio poi allora la cosa che non mi è piaciuta quando la bambina apre la porta allora io capisco che è tua madre però non c'è nessuna ragione nessunissima ragione perché tu abbia aperto la porta perché tu hai visto che tua mamma stava che è impazzita l'avevi vista prima contro la figlia con il punteruolo lì che gli ha sfregiato la faccia hai visto che tua mamma non sta bene hai visto che è impazzita visto che sta picchiando tutti lei la tua mamma non ti ha dato nessun input per cui tu dovresti aprire la porta e tu dici eh ma è la figlia è sua madre la figlia piccola ok allora se quella è tua madre e se la bambina è piccola la porta l'avevi subito non lentamente perché allora se quella è tua madre gli vuoi del bene l'avevi subito la porta perché la vuoi salvare non lentamente con calma perché devi creare la suspense che poi sarà di niente perché quella scena lì è usata in tutti gli spot in tutti i trailer in qualsiasi cosa quindi questa mi è piaciuta mi è piaciuta la citazione la shining con la con l'ascensore che si apre il sangue che esce neanche troppo velata o a profondo la borsa come volete la motosega oggetto simbolo e cardine di tutta la saga ho un dubbio ho un dubbio forte sui libri e qua vi giuro aiutatemi scrivetelo nei commenti perché secondo me c'è una incongruenza forte con la i i vinili allora il primo era datato 13 novembre 2023 ok il secondo 24 gennaio il secondo e il terzo 24 gennaio 2023 quindi nove mesi prima cioè ho letto male io appunto proprio l'ho detto aiutatemi scrivetelo nei commenti ma soprattutto il secondo e il terzo lo stesso giorno 24 gennaio 1923 e nel terzo si senti il prete che dice sono cinque giorni che sono impazziti i preti e che dopo gli ha dovuto fare pezzi e no e no scusami allora letteralmente non ci siamo con le date perché se me l'hai fatto lo stesso giorno 24 e dopo mi dici nel secondo cd nel terzo 24 e dici cinque giorni dopo e no scusami allora è 29 gennaio non 24 allora non c'è andare avanti secondo me c'è un'inconcorrenza forte con le date dei non è una roba mostruosa dei vinili però potrebbe essere un errore una svista grossa però aiutatemi figo l'espediente narrativo del libro coi denti che si apre solo se tu ti fai male se tu ti fai male ti tagli e quindi ti fai male ti tagli sangue quindi tutto il discorso della casa che ci va dietro ti tagli allora il libro si apre questa cosa mi è piaciuta è un'espediente narrativo che ci sta in più il libro è molto figo il discorso coi denti in Necronomicon io non ho altro da dire a me il film è veramente piaciuto ha i suoi limiti nel senso non è un film epocale non è un film che rimarrà nella storia allora visto che questo film lo aspettavo da tantissimo tempo e il voto sarebbe 7 più ma visto che è un film che aspettava tanto tempo è il mio stile ed esattamente quello che volevo vedere il mio voto per questo film qua è 7 e mezzo altra cosa giusto per chiudere non mi è piaciuto tanto l'espediente narrativo che nel quello della casa quasi tutta l'età in tutti i film della casa tutte le persone diventavano possedute cioè il demonio li possedeva perché erano state uccise dalla demone oppure erano si erano state uccise dal demone qua no qua ma soprattutto in quello in quello prima era proprio il fulcro del film il fatto che tutte le anime purificate dal demone dopo sorgeva satana in persona qui invece no chiunque nel palazzo che fosse stato ucciso dal demone senza che fosse stato posseduto o meno diventava dopo il posseduto anche lui è stato fatto l'ho capito per la scena del mostro gigante però non l'ho tanto apprezzato al discorso del distaccamento cioè è un po' esagerato tutti quelli morti per colpo del demone dopo vengono posseduti non l'ho tanto apprezzato comunque sette e mezzo voto molto molto alto scrivete nei commenti cosa mi pensate di questo film se vi è piaciuto se non vi è piaciuto pagina facebook iscrivetevi al canale mettete un mi piace attivate la campagna delle notifiche ci vediamo in una prossima puntata con il dalle che leggerà tutti e tre in necronomi con 3-2-1 di lì